buongiorno amici new york 22 febbraio peppe voltarelli un piccolo video per salutarvi e per dirvi che presto tornerò in italia sono gli ultimi giorni per me in città dopo due settimane molto intense con le canzoni nuove volevo ringraziare e salutare simone giuliani il produttore l'arrangiatore di queste canzoni e domenico ferraro l'editore di squilibri editore che mi seguirà anche in questo lavoro come dopo due belle avventure con voltarelli canto profazio e planetario dello scorso anno finalmente una un album di canzoni inedite dopo otto anni non vedo l'ora di farvelo ascoltare niente un breve video presto farò anche pubblicherò le informazioni le notizie su tutti i collaboratori che ho avuto a fianco in questo grande lavoro quindi state sempre con me vi ringrazio tanto come vedete ho scelto una giornata di sole proprio perché come voi sapete noi meridionali amiamo le alte temperature e poi cosa sono queste quattro gocce a noi ci piace il rischio ci piace l'umidità ci piace il freddo che ci tempra e ci rende più forti ciao amici peppe voltarelli new york 22 febbraio nuovo lavoro a presto